Dalla collaborazione tra Consiglio regionale, Consorzio Topics e Fondazione Torino Smart City, in partnership con Social Fair e col supporto di Healthy Reply, nasce la scuola di Civic Tech, che si tiene dal 19 al 22 maggio a Torino. 12 ore di lezione al giorno per 4 giorni, 40 tra docenti, tutor e ospiti, 50 partecipanti selezionati. L'obiettivo della scuola di tecnologie civiche è comprendere cosa sono le Civic Tech e come si sviluppano. Il percorso didattico è rivolto principalmente a policy makers, imprenditori, innovatori e progettisti. La scuola di tecnologie civiche è un evento unico in Italia, in cui da una parte raccogliamo la comunità degli innovatori, degli agenti del cambiamento, che in Italia a vario titolo stanno facendo esempi interessanti e particolarmente innovativi di utilizzo delle tecnologie in contesti sociali. E dall'altra raccogliamo la community delle persone che vogliono apprendere, capire come fare effettivamente e utilizzare le tecnologie per cambiare il proprio territorio. Abbiamo più di 40 docenti, abbiamo ricevuto più di 120 domande di partecipazione un po' da tutta Italia. Nella facoltà di docenti ci sono esperienze internazionali di primissimo livello, sia europee che statunitensi. E crediamo che questo sia effettivamente il modo giusto per affrontare un grande tema, cioè come la tecnologia può cambiare il governo dei territori e migliorare sostanzialmente le nostre città. Insieme alla scuola organizziamo anche TechFugees Torino, che è un hackathon, cioè un evento di sviluppo, di progettazione per affrontare il tema dei migranti, un tema veramente importante, ovviamente in Europa. E quest'hackathon si inserisce in una rete internazionale con altre città come Barcellona, Parigi, Belgrado, New York. Siamo particolarmente contenti di averlo portato a Torino. E precedentemente alla scuola organizziamo un laboratorio con Anci per giovani amministratori. Verranno a Torino 50 amministratori da tutta Italia per capire effettivamente come utilizzare le tecnologie per migliorare le loro città.